Carissimi Paolo ed Elisa, Oggi, oltre a un momento di grande intensità che vivete, di gioia, si legge nei vostri occhi, voi realizzate quelli che sono i progetti di Dio nella vostra esistenza e maggiormente vi realizzerete giorno dopo giorno, quanto più vi amate. Questo passo dà senso alla vostra vita perché vi donate l'uno all'altro, mettete le vostre vite l'uno nelle mani dell'altro, che voi siete al centro l'uno della vostra vita e nel dialogo, nel parlare, nello scherzare, nel vivere insieme, che veramente vi date la vita l'uno all'altro, buon capito, lungo, sereno e pieno di tanto, tanto amore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.